È stata una vittoria abbastanza facile. All'inizio qualche tua scelta faceva pensare che già sapevi che la gara era in discesa oppure erano delle scelte un po' condizionate? No, ma alla fine c'erano i soliti 8-9 giocatori che stanno facendo tutta la parte del campionato. È rimasto fuori Granata per un fastidio al ginocchio che ha accusato venerdì e Buongiorno che ha avuto la febbre venerdì anche all'ultimo allenamento. Quindi erano scelte forzate. Per quanto riguarda la partita, innanzitutto vi ha fatto un plauso, un complimento a questi ragazzi che oggi hanno onorato la maglia della Nuova Rogliano perché inutile nascondono, hanno avuto dei problemi. Quindi gli va fatto un plauso essere venuti qui ad onorare questa partita, tutti i loro limiti e i loro problemi. Però gli va fatto un plauso per quanto riguarda la partita. Noi dovevamo vincere, l'abbiamo fatto magari con un risultato ampio, però quello che ho sempre detto è importante sono i tre punti perché oggi dovevamo metterci lì nelle zone alte della classifica a prendere questi tre punti. Ci siamo riusciti, era una partita dove venivamo da una settimana che avevamo fatto il turno infrasettimanale, quindi un po' di stanchezza si poteva avere. Quindi va bene così, siamo riusciti ad ottenere il massimo del risultato. Pensiamo subito a domenica prossima. Francesco Levoci, bentornato. Oggi hai debuttato con questa vittoria della Rossanese. Grazie, sì. Finalmente oggi è arrivato l'esordio, c'è stata la possibilità di poter mettere minuti e il mister mi ha permesso di giocare. E quindi sono molto contento anche per la vittoria nel complessivo di come è andata la squadra. Vicinissimo al gol anche. Sì, vabbè, non era importante. L'importante è che la squadra abbia giocato bene, poi il gol mano a mano, facendo bene, arriverà pure. Non mi fisso, diciamo. Ti aspettavi una vittoria così larga oggi? Sinceramente no, perché questo tipo di squadre sono sempre un po' ostiche. Poi dopo i primi minuti la partita si è messa in discesa, quindi siamo riusciti poi a gestirla facilmente. Poi è venuto il risultato, quindi è venuto tutto più facile.